Benvenuti a tutti, ci attende una grande partita, da un momento all'altro i giocatori dovrebbero fare la loro comparsa sul terreno di gioco. Siamo prontissimi per iniziare questa telecronaca, un saluto da Fabio Garesse e Luca Marcheggiani. Un saluto a te Fabio e a tutti i tifosi sperando di assistere ad un grande incontro. Ecco le formazioni delle due squadre. E si comincia. Una domanda al volo Luca, qual è il giocatore chiave di questa partita? Se devo scegliere qualcuno scelgo Higuaino, abilissimo nel controllo di palla, opportunista ad aree di rigore come pochi e segna in tutti i modi. E' difficile dar di torto, queste sono le partite in cui si esalta. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Chiedira. Douglas Costa. Arriva Higuaino. Dobbi. Cercano un modo per far breccia nella difesa avversaria. Prova il filtrante. Ottima incursione per via centrali, ma è da solo. Higuaino. Allarga il gioco sulle fasce. Cross deviato dal difensore. Corner. C'è il colpo di testa! Una buona iniziativa, ma non è bastato. Etemai. Lucciarelli. Manzougec. Bella serie di passaggi. Sturano! Si iscrive al tabellino dei marcatori. Grande azione. Tutta la squadra si è mossa perfettamente, con i tempi giusti. Ha sfruttato nella maniera migliore questo contropiede. Un saluto. Un saluto. Un saluto. 1-0 dunque Questo gol li porta in vantaggio Ma manca ancora molto tempo Sturaro Bella azione sulla corsia di sinistra Pjanic Pericolo La toglie dalla porta Bocco morbido Bucciarelli Scatta verso il pallone Se ne va Lungo passaggio in avanti Sturaro Oggi è andato a segno Pier Sal Riceve il passaggio Bucciarelli Che grande parata Il portiere è rimasto concentrato E' stato molto bravo E si chiudono i primi 45 minuti di gioco Tutti a prendere un teccaldo Finiscono così 45 minuti di calcio Una prima parte non certo avara di emozioni Si riparte per il secondo Il vantaggio di 1-0 Non dà nessuna certezza Devono dimenticarsi il gol E continuare a fare il loro gioco Come se fossero ancora sullo 0-0 Prova il tiro Il guardalini ha alzato la bandierina Fuori gioco Fuori gioco vanifica un'azione spettacolare Splendido il tocco di prima Lancio lungo del portiere Asamoa C'è retropassato Manzucic Gradovanovic Pirsa Pallone alto e lungo sulla fascia Pjanic Si è fatto trovare pronto Buono il cambio di gioco La difesa sta lavorando molto per limitare gli inserimenti in velocità degli avversari Beh forse è per questo che hanno diminuito l'intensità del pressing Esattamente Si attaccano troppo la palla e si fanno superare Gli avversari sono abilissimi a verticalizzare e arrivare subito davanti Iguain Il pallone è dentro Ora doppio vantaggio per loro Doveva solo spingerla in rete Un gol facile per lui Ecco cosa succede a lasciare spazio a un giocatore delle sue caratteristiche La difesa poteva marcarlo molto, molto meglio Attenzione a bordo campo Mi sembra ci sia una sostituzione La prima sostituzione non ha portato i risultati sperati Ora c'è un altro cambio Vediamo se la squadra ne avrà beneficio E si riparte da un netto 2 a 0 Sull'1 a 0 la partita era apertissima Ora possono permettersi di controllarla Radopanovic con la palla alta sulla fascia Douglas Costa Etemai prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione Si avvicina la porta Cerca il passaggio profondo Poteva essere un contropiede interessante questo Peccato Cesar prova a giocarla in profondità E non va troppo per il sottile Senza dubbio c'è bisogno di stringere le maglie delle difese Ci sono elementi pericolosi in campo oggi Beh è normale marcare più stretto chi ha già segnato un gol Non puoi permetterti di concedere gli altri chance per andare a rete Pucciarelli Ottima pressione la sua Palla recuperata Arriva Iguain Può andare Iguain Si è liberato bene Peccato per la conclusione non molto precisa Tutto perfetto A parte il tiro in porta Che a dire la verità si poteva eseguire molto meglio Nessun attaccante riesce a raccogliere il traversone Etemai Birsa Palla giocata alta sulla fascia Pellissier Scatta verso il pallone Ha spazio sulla fascia E controverso Salta e colpisce di testa Ci sono andati vicini Ultima azione della partita Non c'è più tempo Finisce qui Una grande prestazione da parte di tutta la squadra La vittoria è la migliore ricompensa Ma anche l'abbraccio dei tifosi Racconta molto di questo trionfo